Scusanza, buonasera dallo stadio Angelo Massimino, un saluto da parte di Max Licari per avvertirvi che a Motti Subitanea questa sera alle 21.30 andremo in onda sui social come promessovi e commenteremo la conferenza stampa del nuovo allenatore toscano, del presidente Pelligra, di Grella, di Faggiano insieme a voi a partire dalle 21 su Youtube, su Facebook e su TikTok come sempre ci sarò io, ci sarà Alfio Lombardo e tanti altri amici quindi potrete interagire con noi attraverso messaggi, attraverso video e quello che si fa sempre all'interno della nostra trasmissione quindi come vi avevamo promesso non abbiamo smesso, quindi riprendiamo questa sera alle 21.00 con la nostra trasmissione grazie